Hello guys, I am Phil, ma qualcuno mi conosce anche come Virex ed eccoci qui oggi con un nuovissimo video molto molto speciale perché per la prima volta su questo canale andremo a fare la recensione di un manga fresco fresco di uscita perché è uscita esattamente oggi 28 aprile, voi lo vedrete ovviamente il 29 perché è il tempo di comprarlo, leggerlo e recensirlo piccola premessa, non si sono mai viste delle recensioni sul mio canale ma per il semplice fatto che chi mi segue già da un po' che io ho un problema proprio patologico importante, cioè non sono in grado di seguire le cose in corso cioè l'idea di vedere oggi una stagione e la prossima tra un anno, l'idea di leggere un volume oggi e il prossimo tra due mesi mi ha sempre proprio fatto del male interiore perché io sono molto curioso quindi a me piace iniziare una cosa e vederne il finale ecco perché di solito inizio o opere già finite o comunque che sono già avanti con i volumi quindi ho modo di recuperare ecco perché non ho mai fatto una recensione perché non si può fare la recensione di un manga 12 anni dopo che è uscito ecco perché invece in questo caso avendo fatto una cosa molto fast perché è il manga stesso che mi ha permesso perché è uscito fatto e finito siamo qui per fare la nostra prima recensione in questo caso di questo manga Karma of Purgatory prima di partire però con la recensione in sé per sé voglio semplicemente spiegarvi quali sono state le due motivazioni che mi hanno spinto a prendere questo manga in primis la trama la storia mi ha molto colpito e quindi ero curioso di sapere effettivamente come questa tematica adesso andremo un po' a valutare potesse essere sviluppata e la seconda invece diciamo che si basava più a un fattore di cuore ho visto chi erano gli autori di quest'opera e non ho potuto fare a meno di prenderlo perché in questo caso per quanto riguarda il comparto artistico ci troviamo di fronte al maestro Negi Oneji Aruba che sarebbe lo scrittore e il disegnatore di Quintessence del Quintuplet che anche qui chi ha visto l'ultimo acquisti manga sa che è un'opera a cui io tengo particolarmente ma banda alle ciance, ciancio alle bande entriamo subito nella nostra recensione direi di iniziare con un po' di informazioni di base allora in questo caso parliamo appunto di una serie serializzata in Italia dalla J-Pop con un totale ovviamente di 5 volumi in questo caso le opzioni di acquisto sono due o questo bellissimo Pop ovviamente come tutti i box bellissimissimissimi di J-Pop oppure dal 12 maggio è possibile anche acquistare il volume singolo quindi diciamo che dipende anche un po' da voi se volete fare un investimento un po' più ampio subito oppure se volete tra virgolette rateizzarlo nel tempo anche perché in questo caso noi ci troviamo di fronte a una spesa di 29,50€ presi singolarmente ovviamente sarebbero 5,90€ ciascuno passando invece alle cose un po' più interessanti parliamo innanzitutto dell'aspetto visivo di quest'opera ok? innanzitutto l'impaginazione, la copertina insomma J-Pop sotto questo aspetto è un maestro ok? ci saranno sicuramente degli zoomini vi farò vedere bene le copertine e tutto il resto ma passiamo anche effettivamente poi al contenuto in sé per sé come dicevamo in questo caso il disegnatore quindi il comparto tecnico artistico è stato affidato a Negi Aruba quindi fondamentalmente non sto qui a parlare molto del disegno perché chi ha già avuto modo di leggere The Quintessence e The Quintuplets avrà già un'idea ovviamente su come è strutturato il disegno per tutti gli altri posso dire ovviamente che ci troviamo di fronte a un disegno estremamente pulito con un tratto molto delicato ma che in alcuni frangenti risulta anche estremamente tagliente e questo è molto importante perché non mi voglio dilungare molto sul disegno ok? anche perché il disegno è una questione anche molto soggettiva però in questo caso determinate scene, determinate espressioni in questo caso come vedremo poi sono estremamente associate alla capacità espressiva del disegno stesso ma tempo al tempo ci arriviamo passiamo a questo punto alla trama per quanto riguarda la trama diciamo che dobbiamo fare un attimo uno split perché possiamo considerarla come una duplice trama ok? quindi diciamo che abbiamo una prima macro storia che si sviluppa poi una seconda macro storia che si sviluppa per poi ovviamente chiudere il tutto partiamo quindi con la prima storia che è la storia di Makoto Nanase ovviamente io vi darò solo qualche input qui e lì senza entrare nello specifico la storia di Makoto Nanase fondamentalmente è la storia di un ragazzo bullizzato a scuola un ragazzo che presenta una storia familiare particolarmente complessa e che in seguito a tutti questi stimoli si suicida la problematica è che il suicidio ovviamente anche riprendendo un po' quello che è il concetto dantesco del suicidio è un qualcosa che viene visto in maniera negativa no? come uno spreco della propria vita ed ecco perché diciamo che in questo mondo un po' surreale, un po' fantastico il nostro Makoto Nanase non può effettivamente andare all'altro mondo ma sarà costretto da un'entità particolare che fondamentalmente noi possiamo definire il karma che si lega al concetto del suicidio stesso che gli imporrà di salvare la vita a sei persone che altrimenti sarebbero infelici per il suo suicidio e quindi inizia la storia di Makoto Nanase alle prese ovviamente con le infelicità altrui nel frattempo nella seconda parte quindi dell'opera abbiamo invece la storia di Tamako Arukawa che invece è una ragazza ovviamente che anche in questo caso presenta comunque dei sogni, delle ambizioni, delle aspirazioni e che senza entrare troppo nei particolari si troverà in un contesto per il quale in questo caso avrà comunque a che fare con il suicidio ma in questo caso non sarà lei effettivamente a morire ma saranno altre persone e in questo caso sarà lei a dover salvare le anime dei defunti da quella che è la propria infelicità quindi aiutarle a raggiungere i propri desideri per completare il trapasso quindi come dicevo abbiamo queste due storie che si sviluppano diciamo inizialmente in maniera divisa per poi ricongiungersi sul finale fondamentale poi è la presenza sul finire di un capitolo extra il cosiddetto capitolo zero che dal mio punto di vista è un capitolo con poche pagine ma diretto, preciso, inquadrato che permette effettivamente di acquisire quelle informazioni finali che permettono poi di chiudere il cerchio di tutta la storia in questo modo vi ho descritto quindi qual è la trama di questo Karma of Purgatory in realtà io vi ho parlato effettivamente della storia in sé per sé ma mi vorrei parlare anche un po' di quelle che sono le sue fattezze cioè la sua composizione e per farlo mi piace utilizzare due espressioni che una deriva dall'autore stessa un'altra invece la troviamo già nell'opera l'autore infatti definisce quest'opera un'opera con il quale si è trovato a interagire con le emozioni umane ed effettivamente quest'opera si costruisce soprattutto parla di sé stessa esattamente con i sentimenti ed è con questo quindi che mi ricollego al secondo punto la storia viene definita come due facce di una stessa medaglia infatti da una parte abbiamo i primi volumi crudi, pressanti, spreggevoli per poi passare a una seconda parte quindi gli ultimi volumi caretatevoli, dolci, amorevoli e questo è importante perché ci troviamo di fronte a due storie dalla capacità emotiva completamente diversa, completamente opposta ma che sul finire si ricongiungono dando un finale che fondamentalmente conferisce una sensazione di speranza prima di passare poi a quelle che sono le mie opinioni quindi i miei pareri, quello che l'opera mi ha trasmessa vorrei parlare un attimo dei personaggi perché ho notato una piccola imperfezione nel senso che i due personaggi principali quindi Makoto e Tamako presentano una caratterizzazione piuttosto approfondita comunque ben delineata cosa che invece in alcune situazioni risulta meno con alcuni personaggi secondari o comunque con alcune situazioni dove effettivamente i nostri protagonisti si trovano ad interagire quindi è successo durante la mia lettura che in alcune condizioni, in alcune situazioni io percepissi effettivamente la mancanza di un approfondimento aggiuntivo cioè di sviscerare un po' di più sotto il lato emotivo sotto il lato sentimentale quella determinata situazione perché come andremo a vedere quando vi parlerò delle mie impressioni, dei miei pareri diciamo che la componente emozionale la fa da padrona in quest'opera passando invece ai miei pareri quindi a quello che quest'opera mi ha trasmesso come vi dicevo prima la possiamo definire come un'opera ora brutale ok? ora invece delicata ora ti colpisce con un pugno fortissimo allo stomaco ora invece ti accarezza sul viso ed è un qualcosa che ti mantiene costantemente sull'attenti ma costantemente in un subbuglio di emozioni ora anche qui chi mi conosce sa che è difficile che un'opera cartacea mi possa emozionare in maniera particolare mentre questo Karm of Purgatory Raga mi ha fatto passare a livello emozionale le pene dell'inferno perché si passano da condizioni estremamente gravi situazioni, frasi condizioni per le quali tu a un certo punto guardi la scena e dici ma se fossi stato io in quella situazione cosa avrei fatto? cosa avrei pensato? come avrei agito? e questo è importantissimo perché come vi dicevo prima queste scene in rapporto alla maestosa regia e caratterizzazione artistica data ovviamente dal maestro Aruba fa sì che a un certo punto tu ti senti parte integrante dell'opera tu ti senti il nostro Makoto o la nostra Tamako e dici ma io cosa avrei fatto? cioè questa situazione che lì per lì letta sembra surreale ma in realtà non è così surreale cioè sono cose che possono veramente succedere cosa ti spinge ad andare avanti? cosa ti spinge invece ad andare indietro? cosa ti spinge ad affrontare una situazione in un modo piuttosto che un altro? e io penso che il bello effettivamente di quest'opera è la capacità con le emozioni di trasportarti al suo interno è un'opera che come vi dicevo in alcuni momenti vi fa salire un groppo qui alla gola in momenti in cui invece sentite proprio il peso ok? un peso sullo stomaco di un qualcosa che è estremamente difficile da accettare ok? per quanto voi siete esterni quella cosa comunque non riuscite ad accettarla quella determinata situazione e io penso che questa sia la cosa più bella di questa opera cioè la capacità di immergerti in un mondo completamente fatto di emozioni ma di emozioni che comunque abbiano un senso emozioni tangibili quindi rapportate a situazioni che effettivamente non sono così distanti dalla realtà le situazioni prese a sé stanti sono molto più reali di quanto si possa pensare e questo per me è un fattore molto importante perché come ci dice l'autore quindi Shun Hirose effettivamente ci troviamo di fronte a un'opera che comunque serve a far riflettere non è poi così distante da noi ed è molto importante quindi leggerlo forse anche una seconda volta perché anche l'autore stesso dice ho fatto quest'opera pensando che rileggendola può far passare un messaggio comunque delle sensazioni diverse ora io non ho avuto modo di rileggere una seconda volta ma probabilmente lo farò perché indipendentemente dal fatto che sapete già qual è il finale ripeto la bellezza dell'opera non è tanto forse nella trama che ripeto in alcuni casi difetta di brevità ok? questo groviglio di emozioni purtroppo sono condensate in 5 volumi e questo come vi ho detto può essere sia il solo punto di forza perché è un'opera molto diretta, molto veloce, molto rapida che ti colpisce ma di contro in alcuni casi è poco approfondita ma il problema è che questa trama effettivamente in alcuni casi può sembrare solo un contorno a quello che invece è la vera opera cioè le emozioni che ti trasmette quindi leggerlo una seconda volta in realtà non ti annoia perché quello che tu stai cercando in realtà non è tanto il finale quanto di capire quali sono le emozioni che maggiormente ti toccano e quali sono quei fattori che maggiormente ti colpiscono e ti fanno riflettere ti fanno un po' esaminare dentro detto questo ragazzi io non mi voglio dilungare oltre spero di non essere stato troppo prolisso ma era un modo per farvi capire che quest'opera mi è veramente piaciuta tantissima se dovessi dare una votazione infatti da 0 a 10 penso che un bel 8 e mezzo questa serie se la merita tutta ripeto non è un capolavoro perché forse avrei sviluppato in maniera un po' più lunga e approfondita la trama ma indipendentemente da questi fattori è comunque un'opera che mi ha lasciato qualcosa ok mi ha permesso di riflettere su alcune situazioni su alcune condizioni e quindi in parte mi sento comunque arricchito da questa lettura quindi sicuramente un'opera che ragazzi se avete modo vi consiglio di recuperarla che sia con il box che è molto bello che sia singolarmente è un'opera che secondo me dovete tenere molto in considerazione nel caso in cui fosse alla ricerca di un'opera molto particolare detto questo io spero che il video vi sia piaciuto spero che la mia prima recensione vi abbia soddisfatto vi abbia risolto alcuni dubbi se ne avevate sull'acquisto di quest'opera quindi come sempre vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto a commentare dicendomi se l'avete letto se siete in intenzione da comprarlo se vi ispira, se non vi ispira, se non vi piace ovviamente se vi va condividete anche il video con i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al canale se non lo siete già perché mi sarebbe davvero di grandissimo grandissimo aiuto ma detto questo fino ad un prossimo video e ce ne saranno diversi state attenti passo e chiudo El Psy e Kangaroo